In Deiure, i provvedimenti normativi più importanti sono presenti sia nella versione vigente che nelle versioni storiche, in modo che sia sempre possibile ricondurre una determinata fattispecie giuridica alla versione del provvedimento vigente nel momento in cui si è compiuto il fatto. Nella lista dei risultati, questi provvedimenti sono contraddistinti dall'etichetta Previgente. Apprendo il provvedimento, subito sotto la rubrica dell'articolo, è visibile la linea del tempo. scorrendo la quale si passa dal testo vigente ai previgenti. Utilizzando l'apposito campo, è anche possibile imputare una data specifica. Una volta dato l'invio, il sistema restituirà la versione del testo della legge vigente alla data inserita.